Ciao a tutti i buggeriani e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua su Clash of Clans e guardate il villaggio Intanto qua c'è un messaggio E' troppo attivo 9 messaggi Già tutti Guardate il villaggio l'ho mandato avanti Siamo già municipio a livello 5 L'ultima volta c'avevamo le mura all'1, 2 E ora ce l'ho quasi al 5 Le sto facendo tutte al 5 Poi le sto facendo tutte al 6 Poi ce l'ho a caserma a livello 7 Poi sto facendo Le miniere e gli statori Le sto portando un po' più in su Poiché a noi ce l'ho a livello 6 Cioè il massimo che si può avere La fabbrica degli incantesimi Accampamenti a livello 4 Però ne ho 3 questa volta Con la difesa aerea che mi ha finito che è a livello 2 Che poi devo fare a livello 3 finalmente a livello 2 Perché ce l'ho già da un po' che ce l'ho a livello 1 E poi ce l'ho depositi al 9 Infatti ora ho 1000 di risorse Però ho 0 gemme perché ora ho 3 costruttori Perché mi avete detto nei commenti Che devo portare avanti le mura Infatti le ho portate avanti Più i costruttori E basta Poi depositi al massimo Ah, la prossima cosa che devo fare è il mortaio Assolutissimamente Poi ora sto facendo i goblin a livello 2 Perché non sapevo cosa fare perché ho fatto tutto al massimo Ah, non crede questo però non la volevo esire Quindi no E... Sì Poi cosa Ma dovrei anche migliorare le bombe E la bomberia Ah Sono andato in un altro clan Praticamente ora sono in war Settimo Figo Non ci sono mai stato in war Quindi E poi 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 Ah Hanno fatto il nuovo aggiornamento Che c'è la tesoria Praticamente Quando fai Eh Meno male che non l'ho fatto solo una stella Quando arrivi tipo a 5 stelle Qua ti da un bonus C'è un bonus di risorse Secondo che Eh Nella mia lega Il mio bonus è 80.000 Che praticamente te le mette qua Nella Qui Nella caserma infatti ti vedrà anche i soldi Che possiamo anche prenderlo Lasciarli qua Così Però io le prendo uguale sempre Perché è bello Ah Poi c'ho la torre dello stregone A livello 2 E poi Poi Ah Dovrei anche inventare le caserme Poi ho levato un po' di roba qua E Sì Un po' di ostacoli Vabbè Ehm Poi basta Ho detto tutto Questo l'ho detto L'ho detto L'ho detto E l'ho detto Ah poi le trappo la scatola E l'ho detto tutto E sì Qui l'ho già fatto da un po' Ho fatto solo 7 giganti A livello 2 85 Arcieri a livello 3 Che Arcieri ti da Ti prendono un casino di risorse A livello 3 Poi sono blu Guardate Sono blu E vabbè E vabbè Ora possiamo anche attaccare Sono quasi a livello 29 Sono argento 2 Però Sono calato di trofei Ma tanto questo Non ci interessa E andiamo a trovare subito Uno C'è un giocatore Oh Ragazzi Questo sarebbe anche buono Perché c'è le risorse fuori Dove è perso Perché dentro Non c'è un cazzo Dopo aver trovato un giocatore E dopo aver ricaricato il gioco Perché boh Ha detto C'era scritto Ora non mi ricordo Però attacchiamo lui Infatti Però non c'è Ah Meno male Non c'è neanche C'è c'è il casello Ma non c'è Vabbè 3, 2, 1 Non cazzo Vabbè Quanto prendo Qua non dovrebbe Arrivare Il mortale ci arriva lì No Ok Poi attacchiamo Dobbiamo mettere i giganti Prima Mettiamoli tutti qui Poi Mettiamo un po' di arcerozzi qua Perché c'è le difese Però non mi interessa Perché c'è un estrattore lì Però qua prendete Che sono qua Poi spaccate anche qua Poi me l'hanno fatti fuori tutti Ok Speriamo di non fare fail Ah Dopo devo farvi vedere anche Degli Non ho fatto A beh Aspetta Non ho fatto anche Degli incantesimi Così Perché ora non li sto utilizzando Ho fatto una stella Bene Non ho filato E sto prendendo tutte le Il loro l'ho preso tutto Mi è morto Morirò però Va bene Va bene Va bene Ehm Cosa volevo dire Ah Dopo vi faccio vedere Degli attacchi No non so se Però Ve lo posso far vedere Vabbè Ve lo faccio vedere lo stesso Ok Vabbè Sono soddisfattato 5.000 Distruggete e mortale Se distruggete e mortale Abbiamo vinto Praticamente Però Con questa arciere bassa Non ce la farà mai Bene Ok Abbiamo perso Anche se ha poca vita Perché Accidenti alle arciere In nabbi Perché Guarda Guardate Guardate Ragazzi Almeno distruggete il municipio Perché io voglio fare Tutte le stelle Ragazzi Anche se non ce la farò mai Tra figo le bandiere qua Tutte così a caso Però Vabbè Ok Ah l'ho distrutto bene Ok abbiamo vinto Ah no c'è No all'ati proprio Avrò messo Di qua C'è due costruttori E tre E quindi 100% Ho fatto Ragazzi Finalmente posso fare Anche delle partite in war Anche se il mio Cioè Io non so come funziona Io posso Ehi Ah qua è il messaggio Di prima Allora Guardiamo le difese No le difese Non le guardiamo Sono Ehm Attac Questo l'avevo fatto Ah Questo l'avevo fatto Ieri 16 ore fa Ieri E vabbè Ho preso quasi 100.000 Di risorse Ho perso Però Sì buono Poi qua No c'era uno Che Qua Qua Ho sbagliato E ho spawnato Un arciere C'era un attacco Che Oh Eccolo qui Questo qui No ce n'è altri Molto belli Però guardate Quanto oro E quanto Elisir 175.000 E 65.000 Di Elisir Cioè Mica Niente Ah Mi volevo Far vedere Questo E Replay Di Questo Che ho perso Ma c'era Un municipio Che è a livello 6 Però Però ragazzi Aveva tutte Le risorse Fuori Quindi Quindi Immaginatevi Cosa è successo Quando ho preso Tutto Proprio inattivo Questo Anche se era un Th6 Io ho detto Dai Perdiamo Io Tanto lo sapevo Già che perdevo Però C'era un casino Di risorse Cioè Non potevo Attaccare Cioè Ho messo i giganti Così a casa Anche se non le mettevo Però Era bello Spaccare questa Difiseria Che qua Ero passato Ma guardate Sono morti tutti E Vabbè Ho preso le risorse Dopo aver preso Questa E un po' Di questa Ero morto No Questa qui no Un pochino E poi sono morto Ne ho fatto Un casino Di risorse Però ho fatto Anche il 42 C'ero quasi A fare il 50 E quindi Sì Dopo aver Migliorato L'estrattore Tra tre ore E mezzo Lì Farò Non lo so Ah Dato questo Estrattore La prima cosa E poi Questo qui Quanto Ci vuole Io direi Di portare avanti Sempre queste O se no Dovrei prendere Devo farmare oro Poi c'è I messaggi 8 minuti fa E va bene Ragazzi Va bene Niente Perché Cosa Cazzo È successo Va bene Ragazzi Questo video Finisce qua Non so quanto è durato Non so Cazzo E siamo Quasi a livello 29 Di nuovo Quindi Non abbiamo fatto Fail Finalmente Abbiamo fatto 100% Quindi Ho fatto solo Un attacco Nei prossimi episodi Forse ne farò Due O due O tre Ma forse due Suggeritemi Ah Cioè Ora è così Il villaggio Se no Mi suggerite Formazioni Come Tipo Mettere Tipo Mettere Difiserie Al posto De Non lo so Del deposito Però penso Il deposito Metterlo lì Vabbè Consigliatemi De Consigliatemi Qualcosa Su Clash of Clans No Guarda Non lo so Vabbè Basta Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete Pollice Nezzo Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Pagina in descrizione Noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao